Ma sai che si poteva prendere in mano? Red, non davanti ai bambini, ti prego prima rifinisci di registrare il video poi fai quello che vuoi a casa tua. Salve a tutti, sono TheLongamer e benvenuti su questo pazzo episodio di BrickRicks nello spazio. Allora, in mia difesa avremmo dovuto testare le astronavi di Guerre Stellari nella mappa spaziale senza gravità di BrickRicks ma la situazione ha preso una piga molto 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 differente e ci siamo ritrovati anche a testare gru, elicotteri, aerei, automobili, camioncini dei pompieri e tanto altro. Veramente restate fino all'ultimo perché il livello di demenza non può che aumentare. Quindi, buona visione! Ma buonasera, Alon, anche lei è nello spazio? Oggigiorno? Oggigiorno? Come fai a sapere se è giorno? Sì, è nello spazio. È sempre giorno in questa stazione spaziale, va bene? Che posto di merda, Reda. È l'ultima volta che ti faccio scegliere il posto per le vacanze. Ah, ma guarda che se non ti sta bene il sole c'è il lato oscuro della base dall'altra parte. Ah sì? Eh sì, eh. E io mi ribello. No, no, no. No, è scarico, è scarico. Aspetta, mi ribello fra cinque secondi. Ma dai! Aspetta cinque secondi che ricarico almeno. Eh, ma ce ne mettevi quattro e eri ancora vivo. Ma che due palle. Ok, dai. Allora, mi hai detto che dobbiamo testare un po' di astronavi per il prossimo film di Star Wars. Eh, certo. Aia! Perché sono morto? Sei morto da solo? Sei scivolato su una buccia di banana spaziale? È l'emozione spaziale delle banane spaziali. Star Wars muori? È vero, ogni volta che dico Star Wars muori. Sai, se mi spari col bazooka probabilmente forse è quella la causa. Non ne sono sicuro. Allora, spawna prima lei o spawno primo io? Eh, spawno insieme, insomma. No, io soffro di spawnaggio precoce, quindi porti pazienza. Guarda, guarda, questo è sicuramente il veicolo per il prossimo Star Wars, te lo dico io. Guarda quanto è bello. Vediamo. Aspetta, aspetta. Ma non può funzionare una cosa del genere. Fidati, sono un uomo di scienza, può funzionare. Sali a bordo Red, scopriremo posti incredibili assieme. Se torni indietro forse salgo, sei già di po' chilometri dalla base. Potere della magia, scelgo te. Olè, sono tornato indietro. No, non in retromarcia però. Ma io schiaccio quello per andare avanti. Red, accendi i fari, accendi i fari. Come faccio, Lon? Un'acca, porco cane, accendi i fari che se ti... Ok, accendi. Red hai perso i razzi tanti. Aiuto! Aiuto! Red ti salvo io. No, ti ho mancato col missile. Dove vai? Non lo so, Lon. Ma sono qui. Ma dove vuoi che vado? Era tutta un'allucinazione. Ah sì? Meno male, così ti posso sparare io. Aia! Tanto la macchina era tua. Il lì era tuo. Porco cane, porco cane. Vabbè, l'assicurazione era tuo nome quindi. Questo sicuramente sì. Mi faccio vedere, signor. Guarda, va che spettacolo. Ma beh, effettivamente sì. Ma non ho capito. Spara anche. E mi manda anche indietro. C'è un po' di rinculo. Oh, Petti, Petti. Non so come si guidi. Aiuto. Ma Lon, sei già andato via. Lon, non ti vedo più, sei sparito. Non ti vedo di più, Red. Ah, ma perché sei sparito? Dammi un secondo. Stavo cercando di colpirti alle spalle, ma non ce l'ho fatta minimamente. No, maledetto, infame. Dai, sono sopra, ce la puoi fare. Sono letame speziale. Speziale, volevo dire. Speziale? Sì, speziale. C'è letame col carry. Sì. Red, io non sono nel veicolo. Ah, e chi è che lo sta guidando allora? Non lo so. Non riesco a ucciderlo. È posseduto dallo spirito dell'imperapodore Palpatine. Oh, Dio. È vero. Red, guarda l'astronave. È ancora laggiù che fa i G. Ma cosa? Ma facciamo, poniamo fine alla sua sofferenza. Non la piglierai mai. È impossibile. Cos'è sta roba? Eh, cos'è? Mettiti davanti un attimo che ti faccio vedere. Oh, cos'è? No, il TIE Fighter. Come si chiama? Interceptor, Lon. Vieni davanti un attimo. Figo. Ma quelle armi sparano veramente, eh? Sì. Porca di quella porca. Ok, ci sono rimasto malissimo e anche tanto offeso, Red. Lo so che ti vendicherai. Quindi me ne vado. Ciao. Ti puoi salvare, Red. Oh, peccato. A quanto pare non era prova di lanciamissile spaziale. Lon? Perché sono spawnato già bruciato? Si, si, è già bruciato. Guardami. Ti sei preso... Cos'è? Ma stai andando alla deriva. Ma perché non ha più i razzi funzionati? Non ti preoccupare, la batto io. È passata dal demonio. Dove è andata? Dove? Ah, qua. No, no, Red. No, Red. No. Ti sparo anch'io. Fote sega. Non so se ti fa qualcosa, ma intanto ti sparo. Red, Red, Red. Che succede? Che problema ha l'astro... Red, io non sono a bordo, per inciso. Nemmeno io sono a bordo, Lon. Che vuoi... Ma che c'è... Ma c'è un veicolo che non è posseduto oggi? Aiuto, ma perché... No, scusate, vado con la telecamera libera. Aspetta un secondo. Ah, eccola qua. Perfetto. Chiaramente c'è qualcosa che non va nelle nostre abilità da pilota, Red. Chiaramente. Credo anch'io. Credo anch'io. Tra l'altro vedo i nostri due corpi fermi che guardano il vuoto. Ah, vabbè. Non c'è niente di meglio da fare, che ti devo dire. Comunque lo sai che io avevo trovato il limite della mappa, oltre al quale non c'era niente. Ero uscito dall'universo. Vuoi venire... Non me ne frega un cazzo, andiamo avanti con l'episodio. Ma io volevo farti vedere... Scusa, ma quando mi fai Piero Angela mi sale un porcone. Oh, 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 ho spaventato un veicolo di Naboo. Oh, c'è... Cosa, sparati indietro? Come si curvano ste cose? Eh, col mouse. È che col mouse sta... Ah, sta vero sul mouse? Eh sì, devi tenere premuto alt e muovere. Oh. No, non funziona minimamente, mi hai mentito. A me sì, ma a me funziona così, ma cosa ti devo dire? Ma no. Ma cosa... Non ho per la ciolla di niente, aiuto. Ti vedo. Vai, hai verso l'infinito. Dite ai miei iscritti che li ho sempre amati, uno a uno. Ditelo, dico io, sono una persona sola, non sono ancora bipolare. Ah, sì? Ti insegno io a non essere bipolare. No, ma come? Volevo un amico bipolare io. No, non ci credo. Dimmelo, dal mio autobus londinese è spaziale. Non è spaziale, mi hanno mentito. Prendo un altro veicolo e ti faccio vedere come... Wow, porco cane. Mi hai distrutto l'autobus, ma come? Chi? Tu, quando hai sparato il veicolo mi hai distrutto l'autobus. Ah, l'ho spunato adesso il veicolo io. E io torno indietro. Ai, ai. Ah, Red, non è il 1940. Sembra essere la seconda guerra mondiale. No, no. Ma è a prova di missili quell'aereo? Eh, penso proprio di sì, guarda. Porco cane. Red, non funziona così la fisica. Ah, ti ho mancato di poco. Perché tu prima con una macchina con delle eliche pensavi che funzionasse in quel modo. Però, dai che lo guidi decentemente però, eh. Ma insomma, io sto vedendo che giro su me stesso, però ok. Ma guarda, gira su se stesso da solo. Cosa? Non ho fatto assolutamente niente. No, ok. Adesso gira, da me non girava. Come? Oh, oh, lon, lon. C'è qualcosa che non va. Mi gira la testa. Ah, sì, provvedo io Red, non ti preoccupare. Adesso si gira ancora. No, ma basta. Oh, 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 Red, questo è carino. Cosa? Fami vedere. Guarda che sponso. Non posso spostarmi. Ah, ecco. Guarda che roba. Ma è un elicottero, non può funzionare nello spazio. C'è anche il claxon. No, aspetta, lon. Red, Red, guarda che belle lucine. Guarda che belle lucine. Accendile, accendile. E questo pulsante cosa fa? Che pu... Oh, ma... Ok. Ma è giusto tutto l'osio. Chiaramente non devo sparare con la mitragliatrice. Vabbè, te ci penso io. Red, basta, lascia lì il veicolo. Ma che figata assurda. No, beh. No, ma... No, se sale. Se sale. Non credo funzioni così. Cos'hai fatto? Ho attivato qualcosa. Ho attivato qualcosa, non so. Come hai attivato i razzi posteriori? Non so, ho fatto il enable thruster. Ma è bellissimo. Aiuto, mi gira la testa, lon. Ma che figata. Mi gira la testa. Se tu lo sapessi guidare, Red, potrei salvarti. Anzi, potresti salvarti da solo, col cavolo che ti salvo io. No, no, salvami tu. Bellissimo. Mi gira la testa. Se sali qua sopra mi dai una mano. Ok, se distruggo i razzi in teoria ti salvi. Aspetta, provo a prendere i razzi, fidati. Hai preso tutti quelli spenti, l'unico acceso non l'hai preso. Ah, davvero? Aspetta, aspetta, aspetta. Sto arrivando, sto arrivando, Red. Ti salvo io, prima o poi. Sta cominciando a girare dall'altra parte adesso. Eh, non è... Ok, preso. Ti ho salvato. Sì, sai che adesso per i nerds io continuerò comunque a girare all'infinito. Oh, senti, non è che sono perfetto. Hai voluto divertirti nello spazio, porca di quella porca. Dove sei che ti aiuto io a divertirti nello spazio? Qua sopra, qua sopra. No, non sparare qua sopra, Red. No, no, non sparare. Ma sopra dove? Cioè, sopra e sotto non esistono nello spazio. Non ti vedo. Allora, girati di 30 gradi verso nord. Eh... Più o meno... Qua sono... Ahia! Mi hai trovato? Ecco. Mi è arrivato da dietro il colpo, ma che infame! Sono stronzo nello spazio. Ah sì? Sei una cacchetta che fluttua nell'infinità dello spazio? No, beh, non era quello che intendevo. Eh, tu hai detto che sei uno stronzo dello spazio. Ok, dettagli, dettagli. Troviamo un prossimo avicolo, porca di quella porca. Eh, prenditelo. Giorgio Lucas ha bisogno di noi, Red. Ma Giorgio Lucas non ha tipo venduto i diritti, non so. Eh, ma chi cazzo mi ha assunto a me? Ok, lo speeder diciamo che è da deserto. Non so se... Funziona! Red, 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 funziona! Oddio! Oddio, come vai veloce! No, beh, volevo tornare indietro. Porti... Ok, fatto, a posto. No, aia! Stai continuando a fare strike, guardami! Cos'è? Cos'è? La mia strana nave pirilica. Se li ho un po' incendiati? Eh, ho sistemato... Ma non li posso muovere. Ah, brucio! Brucio, brucio! Dolore in Man, Red. Giochiamo a bowling. Ma giochiamo a bowling? Sto bruciando? Perché c'è un incendio ogni volta che spawno? Perché continuano a bruciare? Beh, beh, dammi un secondo. Porca di quell'iper. Porca che li despawno. Non riesco a respawnare. Ma perché c'è un incendio dove spawno? Non lo so. Che cazzo è successo? Red, non li... Sai che se muori posso raccogli... Ah, no, posso raccogliere le tue armi. Non te. Aspetta, aspetta. Andiamo a spawnare più in qua. No, non riesco. Ma io non brucio quando spawno. Solo tu, eh. Ok, a posto. Ah, io so pochissima vita. Sì che stai bruciando, Red. Sei infucato. Ah, è vero anch'io. Aspetta, vai... Vai via con quelle fiamme. Satana. Ma sono inciampato di nuovo. No, no, stai morendo bruciato. Guarda, c'è il cadavere che sbrucciacchia. Red. Ma basta, non sto facendo niente. Non sto facendo niente. Mettila, maledetto infuocato infoiato. Ma non... Tu hai dato fuoco ai miei birilli. Loro ora si vendica. Eh, sono caduto di nuovo. Basta. Ma basta, Lon. Basta, ho detto. No, un cadavere infuocato si avvicina a me. Red, red, placati, placati. Non c'entro niente io. Ma nemmeno io, ma non capisco. Sali a bordo del mio speeder, Red. Arrivo. Arrivo, Lon. No, Red. Ho sbagliato. Cosa hai combinato? Eh, volevo una testa. Me lo ripaghi tu. Giorgio Lucas non perdona quei debiti. Porca di quella porca. Cos'è? Ma io non ho fatto niente. Vediamo chi lo piglia. Non lo piglieremo mai nella vita. No, no, no. Io non ho fatto niente. Dorco. Allora, fammelo respawnare, porca. Aiuto, mi ha rimbalzato via la nave spaziale. Ok, no, era il missile, chiaramente, secondo me. Red, cosa voi hai spawnato? Eh, niente. L'Italia aveva un debito con me. Mi sono fatto dare un aereo. No, l'ha litata. Questa è l'ha litata, porco cane. Non l'ha litata. Ma che ti caccio, Loro? Porca di quella porca. Non me l'aspettavo. Va, 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 va. Va come sono bravo a guidarlo. Quello poi ho i miei dubbi. E non lo rifidi mai più. No, ti volevo pigliare, peccato. Ah, sei tornato? Ok. No, ma io voglio... Mi salito il momento alla walk bar anche a me. Ma funziona ancora l'aereo, fidati. Ah, no, sei morto tu. Eh, sono morto io. Aspetta. Oh, no, Red, Red. No, Red, placati. Placati, è scelto questo corpo satana. Dove vai? Ma te sei sicuro di essere un pilota con la licenza, vero? Mi pare giusto. Te hai la licenza di uccidere, non la licenza di guida. Eh, sì, eh. Di solito sì. Oh, questo è un signor veicolo di Star Wars fino a prova contraria. Wow, 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 wow. Ma che spettacolo. Lo voglio provare. No, ma l'hai distrutto. No, non l'ho distrutto io. Sei arrivato tu e sei distrutto. Ma io non ho fatto niente, mi hai ucciso e sparato. A quanto pare è fragilissimo. Non deve toccare nulla. Beh, sì, ciao. Non lo guiderò neanche fra cent'anni, Red, è impossibile. Eh, tu l'hai detto. Red, stai buono un secondo. Ma, porco cane, state buoni. Ma non ho fatto niente, io sono comunque morto. No, no, si incendi appena arrivo. Si incendi appena arrivo, chiaramente. Eh, c'è qualcosa che non va. Adesso mi hai ammazzato, Lun. Ma non ti entro io. Appena arrivo, si incendia il veicolo. Ah, aiuto. Si incendia il veicolo e via. È un veicolo in focaglia. Basta, sono inciampato di nuovo. Ma dov'è che muori? Ma muori tu, lo so. Ma muoio qui sulla base, non capisco. Aspetta, allora. Dobbiamo fare le cose per bene. Oh. Volevo anche guardarlo un attimino. Ma che figata di veicolo che non è. Eh, aspetta, sono... Oh, sono entrato. Piano, piano. Dobbiamo starci guidarlo. Più o meno. A guidarlo da sobrio, Red, non a guidarlo da ubria. Cos'è? Ok, da sobrio io guido così. Cos'hai fatto? Non lo so. Eh, non capisco più niente io, sai? Eh, quello si era capito, ma sono anni che te lo dico. Non essere così. Vabbè, dai, guidalo tu se sei così capace. Io vado nel passenger seat adesso. No, non c'è nessun passenger seat. Ecco qua. Quanto può essere difficile? Sono morto da seduto, notare. Sono morto seduto. Invece che te l'ho seduto, tu sei morto seduto. Ma porco... Ma è difficile, Errimo, ti giuro. Ma ha preso fuoco di nuovo, tra l'altro. Non ho fatto niente, ti giuro. Cosa hai fatto, Red? Non ho fatto niente, ti giuro. Ma sei a bordo? No, sono dietro di te, io. Ah, sei qua. Ma sono qui davanti a te. No, ma non spararmi i missili per dirmi dove sei. Oddio, ho sparato. Ho sparato al vuoto. Ma sai che si poteva prendere in mano? Red, non davanti ai bambini. Ti prego, prima rifinisci di registrare il video, poi fai quello che vuoi a casa tua. Aspetta, no, che ho io l'elicottero che giro. Oh, funziona. Eh, lo so. Mi sto sollevando quelle... No, Red, Red, sono sotto di te. Sopra di te, scusa. Guarda, Lord. Sono sopra di te, aspetta, non so come funziona sta roba. Ah, scusa. Aia, sei arrivato, Red? Sì. Che bello averti conosciuto. Ma no, aspetta che salgo un attimo. Ok, sali prima tu che è meglio. Wow, wow, che è successo? Che succede? Ma ti sei sparato via, ti sei sparato. Non so cosa ho fatto, aiuto. Ma non lo so neanche io. Cos'è? Red, guarda che roba. Vai via, satana. Ma è esploso. Ti vedo svluttuare nel vuoto là in fondo. Mi son preso un bicolpo. No, 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 no. Si sta già sollevando. Si sta già sollevando. Oh, oddio. Che succede? Red? 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 Red, cosa hai fatto? Non ho fatto niente. Cosa succede? No, io esco, mi fa paura. Che è successo? Facciamo le cose per bene, Red. Vai, vediamo come sei forte con quella torta. Guarda, guarda. Ho giocato a Flight Simulator per anni. Quindi ci sono le abilità nel corpo. Guarda, guarda. Ok. Guarda come giro. Guarda come giro. Come li scrivi questi proiettili? No, Red. Ce la posso fare. Non portare... Red? 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 Non lo faccio più? Non lo faccio più? Non lo faccio più? Non tocco più? Eh, beh, Lon, questo sennò diventi cieco. È a forza di toccarlo. Ma porco cane mi è ripartito. Ma porco cane mi è ripartito male. Ti faccio vedere il mio... Il mio bellissimo bombardiere stealth. Stealth vuol dire che non lo vedo se è stealth, Red. Porca di quella porca. Eh, infatti l'ho già spawnato due o tre volte, ma non ho mai detto niente. Quindi funziona. Ma va a chagare, Red. Hai spawnato una gru, Red. Nello spazio. Ovvio. Le utilissime gru spaziali. E invece che girarsi la parte sopra, si gira quella sotto. No, non credo che le gru funzionino così, Red. Dovrebbe girare sopra. Cos'è? È un camioncino di pompieri con le ali. Camioncino di pompieri con l'elica. Ma dov'è? Ma spegne gli incendi sta roba? Aia! Quell'incendio lì non l'hai spento? Hai visto? Sei un pompiere di merda. Eh, ma perché non avevo ancora acceso i fari. I fari. È mi pare giusto. Vediamo gli altri elico. Ho trovato un aereo che dice un aereo veloce. Questo è veloce, Red. Aia. Aia. Ti ho moscurato. È un aereo veloce. Ma basta! Dai, salgo e poi lo scopo. Ok, sali tu e poi spawno io. Facciamo così. Vai. Ok, dicevo. È un aereo veloce. C'è anche la mitagliettrice davanti. E dietro che cosa c'ha? Fa vedere, fa vedere. Aspetta, aspetta che mi sto per schiantare. Ok, non si... Oh! No, 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 no. Ok, ok. Non è fatto per lo spazio. Non è fatto per lo spazio. Aiuto! Cos'è? Ma cos'è? Li hai? Troppe. Meglio abbondare. Prova a te a guidarla, è una roba impossibile. Adesso ci provo. Aspetta, driver, eccomi. Prova, prova. Oh, beh, dai, qua. No, più o meno. Ma perché non pensavo ci fossero anche i razzi? Ah! Ah, il tuo elicottero è ancora la super altra che vola nello spazio felicio. Red, cos'è? E stia andando via sparando e ruotando. Sai che tutto questo episodio è noi che buttiamo oggetti nello spazio che girano e noi gli spariamo? Praticamente. Ok, questo è ancora più strano. Chi sei stato? Sei stato tu? No. Mi sono spaventato tantissimo. Oddio, va al contrario questo. Ma perché c'ha le eliche anche dietro? Ma come fa? Ma cos'è? Aiuto, aiuto. Red? Ma è un monster truck quello, non è un... Cos'è? Cos'è sta roba? È un monster plane. No, non è un mostro. Non è una cosa bella da dire. C'ho anche le luci, guarda che la vuoi di più dalla vita. Ah, non lo so. Tu cosa vuoi di più dalla vita? Io lo voglio distruggere. Non ero neanche dentro il veicolo, porca cane, Red. Ok, questo è grande. Aia! Questo è grandino, va che spettacolo di aereo. C'ha pure le lucine. Vabbè, ma questo fai due all'ora, dai. Aspetta. Che succede? No. Perché va tutto al contrario nello spazio? Perché stavi... E sei sponato dentro alla base, quindi si è distrutta la coda dell'aereo. Aiuto, Red! Aiuto, Red! Cos'è? Io conosco solo un modo per aiutarti. No, Red. E non ha fatto niente. Red, stai buono. Red, stai buono. Esco, c'ho paura. No, fallo tornare indietro. Adesso capisci perché fa così. Aspetta, aspetta, aspetta che torni indietro. Dammi un secondo. La tattica è se vado indietro magari va avanti. E infatti... Sì, funziona. Se vado indietro va avanti. Beh, più o meno. Stai anche cadendo nel vuoto, eh. Però vabbè. Vabbè, dettagli. Non è perfetta la guida degli aerei, Red. Ma se io ti distruggo un motore... Prova ora. Sei un po' stronzo, ma a parte quello non hai risolto granché. Ma ti eri distrutto da solo la coda. Cosa potete fare di più? Porca boia. Eh, prova tu a guidarlo. Scusi, eh. Flight Simulator 2021. Vediamo un po'. Era tutta una tattica per indurti a morire nello spazio. Ma mi hai distrutto proprio la parte davanti dove ero io. Ma dai. Ho mirato a cazzo. Ma non è vero. Ma ho mirato a cazzo, ti giuro. E ok, dai. Beh, direi che io e Red abbiamo testato abbastanza veicoli molto spaziali. C'ho paura, Red. Aiutami. Ciao, sono davanti a te. Vieni con me. C'è un posto da qualche parte. Aggrappati. Non credo. Vabbè, mi aggrappo alle elezioni. Sali, porco cane. Ma non c'è nessun posto per salire. E ok, dai. Beh, io direi che per questo pazzo è completamente fuori di testa. Episodio di BrickRicks. È tutto. Lasciate un bel mi piace per procurare a Red una morte violenta prima o poi, se riesco. Ah, guarda, ti piglio. Non ti piglierò mai, ma porco. Lasciate un bel mi piace per continuare la serie. Fate un salto sul suo canale, ovviamente il link è in descrizione. È una persona orribile, è un pessimo pilota di aerei, come potete vedere. E noi ci vedremo nel prossimo episodio, se riesco a rientrare dallo spazio. Ciao, ciao. Ciao, ne. Sto malissimo, ti giuro. Eh, lo so, immagino. Ciao.